Continua l'attività teatrale al Teatro Regina Margherita di Caltanissetta. In arrivo Sorelle per la pelle. La commedia andrà in scena il prossimo 10 marzo. Sorelle nella vita è in scena. Daniela e Lavina Pupella sono le protagoniste della commedia Sorelle per la pelle, scritta da Lorenzo Pasqua e andata in scena con successo lo scorso novembre al Teatro Sant'Eugenio di Palermo. La rappresentazione nel corso della tournée siciliana sarà venerdì 10 marzo alle ore 21 al Teatro Regina Margherita del Comune Nisseno. Con le sorelle Pupella sul palco torneranno Leonardo Campanella e Daniele Vespertino per la regia di Maurizio Bologna. A tratti comico, a tratte riflessivo, le due sorelle, Luisa e Francesca, gemelli siamesi di padre palermitano e madre francese, condividono a 360 gradi la loro vita, essendo unito o meglio attaccate nel vero senso della parola, per la pelle appunto. Sono però eterozigote, una fa la centralinista erotica, mentre l'altra realizza bambole e ha un fidanzato ipovedente, che è nello stesso tempo il proprietario dell'appartamento. Le due protagoniste vorrebbero dividersi, ma allo stesso tempo hanno paura di come potrebbe essere la loro vita da staccate. Hanno anche due caratteri molto diversi, Francesca è dolce e gentile, mentre Luisa è piuttosto sfacciata. Tra i gag che si susseguono a un certo punto si compie la tanto attesa e temuta divisione. Inizia così per loro un nuovo percorso, ma ce la faranno a proseguire le loro vite, ognuna separata fisicamente dall'altra?